Ciao a tutti ragazzi, siamo nel mese salesiano come ci siamo già detti e desidero introdurre una nuova rubrica che ci accompagnerà lungo questo mese fino alla festa di Don Bosco del 31 gennaio che è Episodi della vita di Don Bosco. Però non voglio raccontarveli io ma ho invitato degli amici degli altri salesiani di tante altre case salesiane nell'Italia che vi racconteranno alcuni di questi episodi che sono particolarmente cari alla loro vita e il motivo per cui per loro sono cari e ci condivideranno un po' della storia del nostro padre e fondatore. Allora adesso fra breve dovrebbe entrare un mio carissimo amico che forse lo sentiamo già. Edoardo ci senti? Ecco io vi sento. Ci stiamo sicuramente collegando, sei in diretta perché ti stanno sentendo e adesso anche vedendo tutti i nostri allievi della scuola superiore di Bologna. Allora Edo, ciao caro. Ben arrivato. La nostra, come dicevo ai ragazzi poco fa, è la rubrica Episodi della vita di Don Bosco e ogni volta un salesiano diverso. Oggi tocca a te, sei il primo che apre un po' le danze. Prima di tutto, presentati. Sì, sono Don Edoardo Gnocchini, sono il salesiano, il catechista dell'istuto tecnico del liceo scienze applicate qui a Milano e anch'io faccio queste cose come fa Don Andrea, i buongiorni online, queste cose un po' originali. Lui le fa molto meglio però. No, no, non è vero. Ma sono veramente onorato di essere il primo di questa rubrica, perciò spero di iniziare bene e di non far sfigurare poi invece questa splendida iniziativa che Don Andrea ha messo in piedi. Allora Edo, un episodio della vita di Don Bosco che ti è particolarmente caro, che ci vuoi condividere. Sì, ci pensavo un po' su e ho chiesto anche a Don Andrea che cosa avete fatto così da entrare un pochettino. Mi diceva che quest'anno avete parlato del sogno dei nove anni e io come tutti i salesiani abbiamo questo pallino del sogno dei nove anni che ogni tanto torna e mi sono chiesto ma chi sarà stato il primo tra i salesiani a ricevere le erdità di questo sogno dei nove anni che è l'inizio di tutti. Noi salesiani quando andiamo sui luoghi di Don Bosco diciamo ecco qui Don Bosco ha fatto il sogno dei nove anni. Ma chi è stato il primo che effettivamente ha ricevuto questo racconto? Certo, noi sappiamo che i primissimi sono stati la sua famiglia, i fratelli di Don Bosco, la mamma Margherita e la nonna che sono stati un po' quelli che per primi il giorno dopo del sogno hanno ricevuto il racconto direttamente dalla bocca di Don Bosco. Ma tra gli altri, il primo di tutti gli altri, chi sarà stato? Vi racconto la storia di chi è stato il primo a cui Don Bosco ha raccontato questo sogno. Ho dovuto cercare un po' per capirlo ma ho scoperto questa cosa. Un giorno, era più o meno il 1850, Don Bosco aveva portato tutti i suoi ragazzi, o meglio quelli che riusciva a portare con sé, alle cosiddette passeggiate autunnali. Arrivava e quell'anno andavano a casa sua, cioè dava il docco a piedi, 30 chilometri, chiedete a Don Andrea quanto sono faticosi, si arrivava direttamente sotto il colle dei vecchi. E in quell'occasione Don Bosco prende sotto sotto la spalla, sotto la sua ala, un giovane ragazzo, si chiamava Michele. Dice Michele, guarda quella collina lì, la vedi? Ecco, lì sopra c'è casa mia. Sai che cosa ho visto un giorno su quel prato? E inizia il racconto. Il racconto di questo sogno, che sapete molto bene, non ve lo vado a ripetere perché ce l'abbiamo fin sopra le orecchie, ma la cosa importante era che negli occhi di quel ragazzo, Michele, si impresse, si proprio viene vivido l'immagine di quel sogno raccontato lì, proprio dove Don Bosco l'aveva fatto. E lui è il primo a raccontarlo. Michele, di cognome, fa Rua e sarà il primo successore di Don Bosco. Ecco, in quella collina, lì sotto quella casetta, Don Michele Rua riceve l'eredità di Don Bosco. È il primo tra i suoi figli che sente questo racconto, proprio dalla voce di Don Bosco. E da lì inizia tutta una storia molto bella, era già iniziata prima, è tra Michele e Don Bosco. Una storia proprio di uno che si sente appartenente a una famiglia, a una storia, che è la storia di Don Bosco. E mi piace molto questa cosa qua, perché da Salesiano, quando penso a questa cosa, penso di far parte di una famiglia grande, che ha un grande sogno in comune, che ha una radice comune. Ecco, Michele è il primo di noi che ha ricevuto un po' questo racconto e questa grande appartenenza. Vi ho raccontato questa storia per dirvi questa cosa qua, che non è che Don Andrea abbia grandi sogni. No, non ce li ha, ma va bene, se lo prendiamo un po' in giro. Ma i sogni sono roba di casa nostra. Noi quando festeggiamo Don Bosco il 31 di gennaio, perché è per questo che stiamo facendo un po' questi buongiorni, è per dire che Don Bosco è una cosa nostra, è una persona della nostra storia, di ciascuno di noi. Nessuno entra a caso in una scuola salesiana, nessuno entra a caso come animatore in un oratorio salesiano. Ognuno di noi fa parte di una grande storia, che parte da lì, da un Don Bosco che prende sotto braccio Michele e gli racconta quel sogno lì, che è il sogno di tutti noi, ed entra dentro nella nostra storia personale. E vi auguro di trovare spazio in questo sogno, che poi va avanti ormai da 150 anni di storia. E buona giornata a tutti. Grazie Edoardo, buona giornata anche a te, buona giornata anche a voi ragazzi.